Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi, credo che il primo pensiero debba andare alle famiglie dei 12 nostri connazionali che, anche a causa del coronavirus, hanno perso la vita in questi giorni. Lo dobbiamo fare perché mai, in nessun momento, la politica, le istituzioni devono dimenticare che dietro le statistiche epidemiologiche ci sono persone in carne ed ossa, ci sono affetti, ci sono storie personali. E allo stesso modo, un ringraziamento, mi associo a un ringraziamento non formale, ai volontari, ai medici, agli infermieri, ai ricercatori, alle forze dell'ordine, agli amministratori regionali e locali, alla protezione civile, impegnati in una sfida e in una prova tanto inattesa quanto severa. E dobbiamo avere, credo tutti, la consapevolezza, io credo anche l'umiltà, di riconoscere che ci ritroviamo tutti, maggioranza e opposizione, politica e opinione pubblica, Stato e Regioni, dentro un territorio per molti aspetti, inesplorato. Una situazione come questa, con queste caratteristiche, ha pochi precedenti e sono anche, lo dico subito, inevitabili in un territorio inesplorato anche possibili errori. Credo anche, allo stesso modo, con convinzione, e forse il mio intervento potrebbe finire qui, perché condivido davvero, dalla prima all'ultima parola, l'intervento del Ministro Speranza, che il Governo abbia fatto fino ad oggi il possibile e debba farlo per il domani e soprattutto, oltre al tema dell'emergenza sanitaria, perché ci sarà da affrontare da domani anche un'emergenza di carattere economico che, in queste dimensioni, in questa portata, anche qui, a pochi precedenti, in un'economia di pace. Credo anche che dobbiamo riconoscere, e voglio darne atto alle opposizioni, che pochi minuti fa questo Parlamento ha dato al Paese, all'opinione pubblica, un messaggio giusto, un messaggio degno di un grande Parlamento e di una grande nazione come l'Italia, votando in modo unanime il decreto, il primo decreto sull'emergenza sanitaria che è stato più volte ricordato in quest'Aula. Io credo anche che oggi dobbiamo avere tutti, nessuno escluso, la consapevolezza che la scelta è obbligata. Dobbiamo rallentare il contagio, dobbiamo limitare la diffusione del coronavirus, del Covid-19. E credo anche che debba essere apprezzata, anche se questo potrà farci pagare nel breve dei prezzi, il principio di trasparenza che il Governo ha seguito. In ogni momento siamo l'unico Paese europeo che ha fatto circa 10.000 tamponi. E più tamponi fai e più aumenti la possibilità ovviamente di riconoscere la presenza dell'infezione anche in soggetti cosiddetti asintomatici. E dobbiamo anche dire, ma senza gettare la croce su nessuno, né su quei territori, né su quegli operatori, che oggi un unico solo focolaio ha generato più dell'80% del complesso delle persone risultate positive. Lo dico in un altro modo. Se non ci fosse stato quel focolaio, e non do responsabilità a nessuno, tantomeno ai medici e alle persone che operano in quel territorio, ma senza quel focolaio noi saremmo assolutamente nella media degli altri Paesi europei. Questo va detto, perché altrimenti ci giochiamo. Così come è giusta l'osservazione, lo riconosco, che faceva prima la collega Meloni, c'è stato e c'è ancora oggi una sorta di cortocircuito comunicativo. Da un lato si dice la verità, si dicono i numeri che sono stati detti delle ricerche rispetto alla pericolosità del Covid-19 e dall'altro si prendono misure drastiche, come se la pericolosità fosse molto, ma molto più elevata. Il problema qual è, evidentemente? Il problema è la dimensione numerica potenziale del contagio. Prova a dare due numeri, così credo che questo ci possa aiutare. A ieri l'influenza tradizionale ha colpito 5,6 milioni di italiani. Se noi ci trovassimo di fronte non a 400 contagiati, ma a 400.000 contagiati, che è meno di un decimo di quello di influenza tradizionale, ci troveremmo banalmente, stando anche nelle soluzioni, diciamo le previsioni più semplici, a una dimensione di richiesta di posti letti in rianimazione di oltre 20.000. E questi posti letto il sistema sanitario nazionale non ce l'ha. Ecco perché è fondamentale circoscrivere, rallentare, mettere davanti, pur consapevoli delle difficoltà e dei problemi che questo comporta nella vita quotidiana di milioni di persone e di imprese, la sanità, il rallentamento del contagio rispetto a tutto il resto. Ed è vero, lo dico da europeista, questa volta è stata l'ennesima occasione mancata per dimostrare che non ci sono confini nazionali, che l'Europa non è semplicemente la somma di egoismi nazionali, ma che esistevano e esistono confini europei. Perché è giusto, sarebbe stato giusto avere uguali misure di controllo e di prevenzione superando i confini nazionali, perché questa questione è una questione assolutamente centrale. Quindi oggi, l'è stato detto e devo dire gli apprezzamenti del Commissario europeo, dell'OMS, proprio all'azione del Governo, credo che da questo punto di vista dobbiamo viverli come un apprezzamento complessivo. Così come lo ribadisco, la solidarietà a chi sta in prima liglia oggi, chi ha subito danni economici dovrà essere fatto uno sforzo gigantesco per far ripartire l'economia in molti territori. Su questo l'Europa, sono d'accordo, anche su questo, devo dire con chi mi ha preceduto, non può limitarsi a 200 milioni, qua si tratta di fare uno sforzo straordinario di solidarietà. C'è anche un'altra riflessione che vorrei fare, il tema del servizio sanitario pubblico. Mai come in questo momento mi sento orgoglioso di essere italiano, di un servizio sanitario pubblico universale che non guarda in faccia le questioni economiche. E guardate, abbiamo denunciato da questi banchi a governi alterni la necessità che si ponesse fine, come si è fatto con questo Governo alla stagione dei tagli, ma si deve fare di più, molto di più, perché che cosa è venuto fuori? Una debolezza strutturale di uno dei settori più difficili, quello che ha maggiormente contatto con la popolazione, cioè i pronti soccorso. Quello è un problema, Ministro, lei lo sa benissimo, che va affrontato, ci vogliono risorse. E anche il ruolo dell'informazione. Credo come mai in questo momento il ruolo dell'informazione e del servizio pubblico debba distinguersi rispetto al resto dell'informazione, perché credo che la gente vada aiutata a comprendere. Si tratta non di tranquillizzare di per sé, non di minimizzare, ma di spiegare, perché credo che alla fine le persone, la gente comune sia in grado di comprendere. Concludo, perché in questi momenti, ma credo che sia capitato a tutti, nei momenti di difficoltà si va a guardare anche al passato e a un testo della cultura antica, un testo che ci ricorda, è l'Ecclesiaste, che c'è un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Vedete, noi crediamo che oggi non sia il tempo delle polemiche, non sia il tempo della propaganda strumentale, ma sia il tempo nell'interesse nazionale, nell'interesse dei nostri concittadini, sia invece il tempo dell'unità, della responsabilità e della solidarietà nazionale. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, c'è un'urgenza sanitaria.